Ma ci siamo, tutto pronto? Parti! Cavalli della TQQ di giornata. Il più veloce a partire è Traffic Jam, che prende subito la testa della competizione, tra che è partita bene Ella Drago. Ci prova subito a prendere posizione Miramon Lady, Dreamer Filly, che alla fine emerge da questo parziale quasi a staffetta, molto brillante. Altro che ha colto una buona partenza è Zio Giancarlo, dietro a questo una seconda linea formata da zona d'ombra con il cap giallo. All'interno c'è Because the Night, all'esterno troviamo anche la figura di Bessie de Griff, anticipata a Thunderflesh. Poi Resident Evil, alle cui spalle galoppa Big Gene, impacchettata lungo la corda, preceduta anche da Fantasmina, in coda a tutti troviamo Nightcrawler. Andatura decisa, Dreamer Filly, che indica la via nei confronti di Miramon Lady. Di dentro in terza posizione Traffic Jam, poi Zio Giancarlo, Ella Drago, zona d'ombra, Because the Night, Fantasmina. All'esterno Thunderflesh, Big Gene, Nightcrawler che va di dentro, poi percorsie esterne Bessie de Griff, rimane in coda Resident Evil. Quando siamo in dirittura d'arrivo il primo a lanciare l'assalto è Miramon Lady, che prova subito ad aggredire Dreamer Filly, la quale è ancora davanti. Percorsie esterne ci prova Zio Giancarlo insieme a Ella Drago, deve trovare lo spazio Big Gene, in questo momento non è privata. Ci prova anche Because the Night, di dentro ha trovato un ottimo varco Fantasmina che adesso si impegna rispetto a Miramon Lady, che è comunque ancora davanti anche Bessie de Griff della partita con Fantasmina contro Miramon Lady. Nel tratto conclusivo Fantasmina si fa star bene, anche il miglio con lo spunto decide la partita. Secondo posto per Miramon Lady, al terzo dovrebbero essere Bessie de Griff, poi Big Gina, ma dobbiamo rivedere il tutto. Sicuramente è stata una bella interpretazione da parte di Germano Marcelli in sella Fantasmina c'era il dubbio legato alla distanza, ma si è messa lì nella tonnara e appena ha trovato il varco è riuscita a sprigionare tutta la sua energia. 5 al primo posto, 9 per il secondo, al terzo il 10, al quarto numero 8 Big Gina e per il quinto posto il numero 12 è la Drago, quindi numericamente l'ordine d'arrivo provvisorio recita così 5, 9, 10, 8, 12. Per la combinazione del Quintè, Fantasmina era alla terza affermazione in carriera, una figlia di Garswood, allenata da Giuseppe Di Chio per i colori di Aristide Lazzoni che piazza al terzo posto anche Bessie de Griff. Ripetiamo i numeri, 5, 9, 10, 8, 12. Da Capanelle è veramente tutto, Gabriele Candi vi ringrazio, vi auguro una buona serata, vi dà l'appuntamento alla prossima giornata di corse in questo ipodromo con mercoledì le corse al trotto, venerdì ancora galoppo da Capanelle e sul replay di Fantasmina è veramente tutto. Grazie.